Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come attivare la tua indicazione a due fattori per proteggere il proprio account su Valorant ovviamente ti ho lasciato un link in descrizione che ti potrà su questa pagina del proprio account questo qua è il link e come puoi vedere c'è scritto indirizzo email non verificato quindi se tu vai su autenticazione a due fattori tu vai su invia quindi attiva così la tua email per verificarla vai sulla tua email verifichi così la tua email e hai attivato velocemente l'autenticazione a due fattori ed eccola qua che è attiva quindi se questo video ti è stato utilissimo su come attivare questa autenticazione a due fattori per proteggere l'account su Valorant lascia like e iscriviti noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao